e noi non troviamo nessuno ma anche il ciò che mi sono andato ok, l'acqua? ok 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 Il Presidente Chiamparino mi ha suggerito di fare un salto alla protezione civile piemontese, la protezione civile regionale per significare la grande attenzione con cui stiamo tutti insieme lavorando e seguendo questa vicenda mi ha anche detto dello straordinario lavoro che è stato fatto in questi anni e in questi mesi dopo ciò che era avvenuto 20 anni fa qualcosa di più di 20 anni fa e ora stiamo affrontando una fase di emergenza che naturalmente non è terminata e quindi nessuno può permettersi di tirare un sospiro di sollievo attendiamo il passaggio della piena ad Asti prima e ad Alessandria poi come i momenti più importanti ma che vede un grandissimo lavoro da parte delle donne e degli uomini della protezione civile della regione in primis di tutti i volontari il progettista della tutu importante non solo per noi abitanti ma anche per noi siamo alla scuola dell'infanzia grazie 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 questo ve lo dico proprio in tutta onestà quindi noi ci siamo e ci mettiamo a disposizione voi metteteci del vostro grazie sindaco e abbraccio sindaco e abbraccio